Adesso mi sposterei sul versante istituzione. Francesco Scopola è direttore generale delle arti e paesaggio del Ministero dei beni culturali. Così come c'è l'architettura storica, c'è il verde storico, c'è questo paese, sappiamo, il portato e il patrimonio di queste cose. E su questo c'è l'eterno problema, l'eterna dicotomia, tutela, valorizzazione, eccetera. Recentemente c'è stata un'iniziativa proprio organizzata dal Consiglio nazionale degli architetti a Palmanova dove si è parlato proprio di questo, cioè dello sviluppo di una tutela dinamica, di una capacità di uscire da certe logiche troppo stringenti e di un dialogo con le professioni. Allora, il verde è una componente del patrimonio artistico, architettonico e culturale del paese. E quindi come sviluppare una politica che sia non ingessata ma che sia proiettata al domani? Nel porre la questione sono state usate opportunamente molte parole chiave dalle interpretazioni multiple perché sono termini che spesso vengono usati anche per porre le pubbliche amministrazioni sotto accusa. Allora, tenterò brevemente di sgombrare il campo dagli equivoci perché specie quando la terminologia significa più di una cosa basterebbe partire al termine ingessare o qualsiasi altro termine appena usato, valorizzazione, la tutela. Si prestano a tante letture diverse, ognuno può vedere, suonare un campanello d'allarme o accendersi un faro di speranza nella stessa parola. E quindi cerco, nei limiti del possibile, di fare un minimo di chiarezza su quel che è il nostro compito. Il nostro compito, come tutti sappiamo, nasce oltre 2500 anni fa nella Grecia antica quando le città della Grecia si dotano dell'istituzione di mistoforia. Cioè pagano alcuni cittadini, tutti gli altri cittadini, si fanno carico di pagare una prebenda, uno stipendio ad alcuni cittadini perché curino degli aspetti di interesse generale. Non importa se sono le mura, se sono gli acquedotti, se sono le strade, se è il decoro, ma nella Grecia antica si inizia ad avere alcuni cittadini preposti a delle funzioni, diciamo, di esperti di un certo settore e che si occupano quindi non di casa loro soltanto, non della loro impresa soltanto, della loro attività lavorativa, ma dei presupposti perché tutti possano svolgere da questo, diciamo, punto di conquista iniziale, che è da qui che nasce la città e la politica nel senso più alto dei due termini, fino ad arrivare ad oggi, che è un periodo nel quale chi invece è servitore dello Stato viene inteso spesso e sempre più spesso come appartenente a una casta, un privilegiato che ha lo stipendio sicuro, la pensione certa, eccetera, eccetera. Il passo è stato lungo, non ve lo posso riassumere, ma non c'è dubbio che l'aspetto principale di questa degenerazione sta nel servizio mal reso. Perché se io, dipendente pubblico, rendessi un servizio che realmente snellisce il traffico, tutela i monumenti, garantisce il verde, garantisce la purezza dell'acqua dell'acquedotto, difficilmente la città maturerebbe col tempo un odio verso di me. Anche se influenzata da mezzi di informazione sempre meno obiettivi e sempre più sensibili a potentati economici, eccetera, eccetera, difficilmente mi ritroverei ad essere fortemente impopolare. Se quindi queste o parti di queste istituzioni pubbliche sono diventate impopolari, in parte è colpa nostra, cioè, dico nostra non di noi qui presenti, ma di me, cioè dei funzionari della pubblica amministrazione, che evidentemente hanno inteso nei secoli troppo come un privilegio, troppo come un arbitrio, troppo come un potere soggettivo, monocratico, insomma, inappellabile la propria funzione, e troppo poco come un servizio, un servizio reso agli altri, a disposizione degli altri, diciamo, grati della prebenda che si traduce nello stipendio o nella pensione. Dunque, vorrei chiarire innanzitutto che probabilmente, se di colpe vogliamo parlare, la colpa è nostra, per cui non c'è da fare del vittimismo o da fare delle... Detto questo, però, ci sono dei fenomeni di cecità assoluta, non qualche diottria, soprattutto nel mondo della parcellizzazione tecnica, in cui ognuno segue il suo campo e non ha la veduta d'insieme. Allora, io mi occupo solo di questo, tutti occupi solo di quello. Già raramente abbiamo occasione di lavorare assieme, perché ditemi voi quante volte vi è successo di trovarvi al lavoro su un singolo monumento, su un singolo contesto, su un piano regolatore, avendo presenti sia il geologo, sia l'agronomo, quasi mai. Cioè, di solito, per farla breve, la cosa viene poi ridotta nel gruppo ristretto di due persone che devono, diciamo, redigere l'elaborato e sottoporlo agli altri. Allora, già è raro lavorare in tanti, ognuno nella sua competenza. E però, sappiamo tutti, anche chi, diciamo, fuori del campo specifico del verde, ma immaginiamo nella medicina, che se vado solo dall'oculista o dal dentista e non faccio mai un controllo delle condizioni generali di salute, rischio brutto, perché posso non accorgermi di quel che ha innescato alcuni fenomeni di caduta della vista o altra che non sta nell'occhio, sta da un'altra parte. Allora, sarebbe particolarmente importante cercare di non parcellizzare troppo le visioni e di restituire, per quanto possibile, al servizio da rendere una visione generale d'insieme. La cecità maggiore di cui vi parlavo sta proprio qui, nell'equivoco del modo in cui noi intendiamo lo spazio libero. Ripeto, spazio libero, perché questa nozione è nata quando le scoperte geografiche non avevano avuto ancora termine. Si continuavano a scoprire nuovi continenti, prima l'America, poi l'Australia, poi l'Antartide. C'era sempre una terra nuova da scoprire. La densità della popolazione era bassissima e quindi lo spazio libero c'era, era praticamente sterminato e non eravamo altro che un frammento della popolazione vegetale, animale, umana del pianeta alla conquista di spazio libero sostanzialmente illimitato. Viceversa, dalla rivoluzione industriale in poi, cioè in Italia dal 1945, in altri paesi d'Europa dal 1700, fine 7, inizio 8, da quando l'energia muscolare è stata sostituita dall'energia meccanica lo spazio libero è finito, è misurato e chiunque fra noi, sia esso ingegnere, architetto, agronomo altro, lo può misurare. In Italia, che è uno dei paesi più affollati del mondo, ognuno di voi, ve lo dico non senza brivido perché nessuno lo dice mai, ha a testa un fazzoletto di meno di 50 metri per cento. Mentre la media europea è 300 metri per cento, in Italia noi abbiamo meno di 50 per cento metri a persona. Che significa? 50 metri per cento che debbono servire, a comprendere le aree franose, comprendere le aree montane, comprendere le aree non fertili, le zone secche, eccetera, eccetera, e anche quelle umide, paludose, preposte all'anidificazione degli uccelli, eccetera, eccetera, e poi comprendere tutto l'edificato che serve a me, a tutti i miei posteri, ai miei successori, ai miei ospiti, perché l'Italia ha una presenza di un'incidenza di turismo che è entrata tra le competenze del Ministero molto alta, dunque se devo anche ricevere le visite del turista, ho sempre i miei 50 metri per cento, tutta la spazzatura, l'immondezza, per dirla con Italo Calvino, mia e dei miei posteri, dei miei successori, nonché dei miei antenati, sempre in quei 50 metri per cento deve entrare, comprese naturalmente le attività estrative e via discorrendo. Allora è ovvio che se io parto anche solo da questo dato elementare, in Italia siamo a un sesto del resto del mondo, siamo affollati sei volte tanto e in più abbiamo un turismo pressante, dunque siamo ancora più affollati di così, il problema dello spazio libero mi pare che non si ponga, cioè che sia un falso problema, lo spazio libero sarebbe ora di dirselo, di avvertirlo, che non c'è, cioè lo spazio libero non esiste. In Svizzera, dove lo hanno capito presto perché il paese è piccolo, è tutto montagna e ghiacciai, c'è qualche valle fertile, non troverete un frigorifero sparso nemmeno se fate un concorso e mettete una taglia di un milione di euro per chi fotografa un frigorifero in un prato, una vasca da bagno o un sanitario abbandonato in un prato, non lo trovate in Svizzera, perché c'è una cultura plurisecolare secondo la quale lo spazio è prezioso, lo spazio non c'è e va usato al meglio, non si spreca lo spazio, è lì e si usa al meglio possibile, che è quel che a volte i più ordinati di noi osservano anche in casa propria, se l'hanno comprata o se l'affittano sanno che è costosa, che è cara, che è pregiata e quindi la usano al meglio, non tutti perché ci sono poi disordinati, ma insomma alcuni la usano al meglio. Viceversa il rischio che noi abbiamo è di non considerare questo, è considerare che si possa continuare a rosicare, ad erodere, non lo posso dire io con queste erre, lo spazio libero pensando che tanto una variante oggi, un'eccezione domani, un piano diverso dopo domani, tanto le zone libere, diciamocelo fra architetti, a cosa servono? A essere costruite e qui dobbiamo subito entrare nel discorso chiave, stiamo costruendo la città dei vivi o la città dei morti, perché la città dei vivi presuppone che in queste case ci debbano essere persone, se queste case devono essere abitate, quelle persone che stanno lì dentro, oltre che pagarle, che è quello che ci interessa, devono anche vivere. Per vivere hanno bisogno almeno di tre cose, di respirare ogni manciata di secondi, di bere ogni manciata di ore, di mangiare, speriamo qualche volta al giorno, ma se si tira la cinghia, stare di giugno anche una settimana, ma poi di mangiare. Le tre cose non pesano nel mercato economico, perché non pesano? Non perché siamo stupidi, perché il mercato è viziato, perché non abbiamo introdotto i correttivi, non pesano per motivi etici, perché i nostri genitori non erano tanto stupidi da mettere un discrimine sul vivere, cioè deve vivere anche chi è incapace, non ha soldi, non guadagna, non lavora, è invalido, devono vivere tutti. Quindi l'umanità per infinite generazioni si è guardata bene dal fare un discrimine sui generi di prima necessità e anzi li ha calmierati, ha fatto i panieri, lo sapete benissimo, non mi dilungo. Quindi alcuni prezzi sono addirittura truccati, lo sfilatino è poco caro, non perché sia economico produrlo, ma perché deve rimanere poco caro perché sta nel paniere. Se alzo il prezzo dello sfilatino devo alzare anche le pensioni e quindi lo calmiero perché almeno lo sfilatino lo possano comprare tutti. Dunque c'è una ragione etica per cui il mercato è truccato e fa pagare poco e quindi fa apparentemente apparire, scusate il bisticcio di parole, improduttive, le attività essenziali. Cioè più l'attività è essenziale, meno produce. Ci potremmo mettere in Italia perfino la medicina. La medicina è un'attività essenziale ma siccome è garantita dal pubblico è poco produttiva. Infatti ho bisogno delle sovvenzioni del ministero, se no anche la casa di cura delle suore non campa, deve prendere i contributi da qualcuno. Allora il fatto che ci sia un motivo etico per cui le attività essenziali sono improduttive, l'ho detto in breve, sommariamente, grossolanamente, ma mi sembra di averlo reso. Il verde è questa attività essenziale. Il verde serve a respirare per l'assorbimento di anidride carbonica, per erogazione di ossigeno e per trattenimento delle polveri sottili, che sono tre validissimi effetti per respirare. Senza questi tre effetti insieme non si respira e quindi serve a respirare. Serve a mangiare perché la massa vivente animale, includendo in quell'animale anche quella umana, è un'infinitesima parte della massa vegetale e mentre la massa vegetale può vivere allegramente senza gli animali, la massa animale non può vivere senza la massa vegetale. È come dire, l'equivalenza la lascerei fare a chi di mestiere, ma che senza alcune decine di tonnellate di legno io non sarei qui ad annoiarvi e senza le vostre decine di tonnellate di legno ciascuno o di erba voi non sareste qui ad annoiarvi. Nel senso che non ci saremmo proprio, l'architettura sarebbe vuota, nessuno la pagherebbe perché noi senza il vegetale non saremmo qui. Nel senso che per mangiare abbiamo bisogno o di carni che a loro volta hanno bisogno di erbe, di biade o di nutrimento, oppure di vegetali, di legumi, di altro, ma senza quella massa vegetale noi non ci siamo e c'è l'alimentazione. I suoli non sigillati poi sono gli unici ad alimentare la falda. Piero Angela in un bellissima sua mostra ha dimostrato in una maniera efficacissima che tutta l'acqua del pianeta in un mappamondo in scala tale da rendere il mondo grande 3 metri, cioè sarebbe al centro di questa stanza appeso al lampadario, la pseudosfera arriverebbe quasi al pavimento, in quel mappamondo tutta l'acqua, sia quella dell'atmosfera nelle nuvole, sia quella dei ghiacciai, sia quella dei laghi, sia quella del mare fino al fondo della fossa delle Marianne oltre gli 11.000 metri, tutta l'acqua sarebbe una pennellata data col pennello secco che ogni tanto vernicia e ogni tanto no. Quello spessore sarebbe lo spessore dell'acqua in rapporto alla circonferenza del pianeta, uno spessore fra l'esistente e l'inesistente su 3 metri di diametro. Dunque l'acqua è poca, la quasi totalità dell'acqua è salata, quindi non ci serve per bere ogni manciata di ore. Quella che è dolce è quella di falda, la falda si ripasce solo grazie ai suoli non sigillati, dunque solo ed esclusivamente grazie alle aree verdi. Non si ripasce sotto le autostrade, non si ripasce sotto l'edilizia cara a noi altri ingegneri e architetti del ramo. Dunque bisognerebbe cercare piano piano di arrivare a capire che ogni edificio, se non lo faccio come città dei morti o come monumento finalizzato a una bella rivista di architettura a uso e consumo dei marziani quando arriveranno sul pianeta spopolato, se lo faccio perché venga abitato, ha bisogno di uno spazio libero. Non è che può non averlo. E che quando io guardo uno spazio libero sto guardando lo spazio di servizio a un edificio realizzato. Non sto guardando un terreno da costruire. Sto guardando la zona che serve ad abitare un edificio che già esiste. In Italia questo è marchianamente evidente perché stiamo sigillando il suolo italiano a ritmo di una piccola regione ogni dieci anni. Cioè l'equivalente della superficie dell'Umbria noi la cementiamo, la sigilliamo in dieci anni di tempo. Evidentemente si tratta di un trend insostenibile, cioè che non può durare. È vero, si dirà, ma noi possiamo continuare a vivere grazie alla massa forestale, all'acqua dolce potabile, la porteremo riconvertendo le petroliere, dell'Amazzonia. Manco per niente perché in quell'edilizia nostra ci mettiamo il parchè di legno amazzonico. Per cui non abbiamo neanche la scusa del dire noi salderemo il conto grazie a qualcos'altro. Perché stiamo sistematicamente replicando il modello anche altrove. Allora bisognerebbe imparare in modo un po' diciamo da fratacchioni autosufficienti nella propria cella con l'orticello, ora et labora, a studiare dei modelli in cui lo spazio libero faccia parte del costruito, faccia parte dell'architettura, sia più evidente che ha servito alla costruzione. Che è poi il modello della villa? È il modello in cui per ritirarsi in Santa Pace uno ha tutto quel che gli occorre attorno a casa e quindi ha la sua area libera, ha la sua area costruita. È il modello diciamo lussuoso, è espresso nel modello della villa, meno lussuoso, è espresso nel modello del monastero che ha i suoi campi, i suoi orti, i suoi terreni. In ogni caso noi sappiamo che perfino la cattedrale di Strasburgo, ne dico una a caso, ha i suoi terreni, con l'adicatio medievale, del diritto medievale, ad muros, cioè inalienabili. Le mura della cattedrale di Strasburgo non possono dismettere i terreni che le consentono di avere il personale che le consente di sopravvivere alle nevicate, ai temporali e alle altre cose. Dunque non esiste l'edificazione, la città, la costruzione, senza quello che noi consideriamo spazio libero a disposizione palestra di esercitazione per l'architettura. L'architettura comprende lo spazio libero, se non lo comprende non è architettura, è architettura cieca, è delirio, è poca lungimiranza. Ora, noi invece viviamo ancora in una mentalità pre-napoleonica nella quale si pensa di poter conquistare il mondo intero, esplorare e scoprire nuove terre, nuovi pianeti, non si sa cosa. E quindi espandersi e basta, occupare e basta, invadere senza limiti, trasformare senza limiti. All'estero si vedono spesso aree industriali dismesse che vengono ricondotte a bosco, a prato, agricoltura. Da noi mai. Anche quando fioriscono nobili iniziative per cui, per via dell'archeologia industriale, invece di abbattere la vecchia fabbrica, si fa il museo dell'artigianato all'inizio del Novecento, ci si trova in ogni caso che quel fabbricato si trasforma, si conserva, non si abbatte. Allora, non ne possiamo costruire di nuovi. Cioè, se non li vogliamo abbatte, li dobbiamo riconvertire, ma non ne costruiamo di nuovi. La faccio breve perché ho paura che sto andando troppo per le lunghe. Vi dico soltanto delle altre frasi, mentre questa sullo spazio libero ho cominciato a svilupparla e mi fermo da solo. Vi dico solo alcuni altri titoli. La qualità deve trasformarsi da criterio soggettivo estetico di preferenza individuale in quanto è desiderabile in modo diffuso. Cioè, devo garantire qualche cosa di desiderabile per tutti, mediamente desiderabile. Questo perché? Perché mentre in passato si partecipava alla costruzione della propria casa, della propria città, oggi è tutto delegato. E quindi, chi viene delegato deve porsi il problema di rendere la qualità non in termini di gestualità soggettiva, mi piace il quartiere in forma di punto interrogativo, ma in forma di servizio. Cioè, che cosa piacerà a chi andrà ad abitare lì? Quindi basterebbe il caso di un celebre suicida per dimostrare che ad opera finita l'architetto può essere anche deluso da quel che è stato realizzato sul suo progetto. C'è il problema dei patriarchi, che parlando di verde e di verde urbano vorrei sottolineare. I patriarchi, per chi li studia, sono gli alberi che conservano un patrimonio genetico molto antico. Non sono stati innestati, non sono stati incrociati, non sono stati manipolati. Sono il prototipo del sicomoro del terzo millennio avanti. E si è ancora conservato nella piazza tal dei tali del centro storico tal'altro. Andare a caccia di patriarchi diventa una fissazione. Ma per esempio adesso a Roma la villa dei Quintili è stato fatto il giardino dei patriarchi in forma di Italia in cui per ogni regione ci sono alcuni patriarchi e le scoperte sono notevoli. Vi dico solo che per esempio esiste la mela cotogna che si può mangiare senza cuocerla. Mentre se voi comprate un seme di melo cotogno e lo piantate, il frutto è immangiabile, lo potete solo cuocere. Se vi appoggiate a un patriarcha è squisito da crudo. Allora i patriarchi sono una faccenda interessante, non un hobby del verde urbano e andrebbe studiato. L'architetto, l'agronomo, l'ingegnere non può ignorarne l'esistenza. Per questo mi limito a dire dei titoli. Un altro titolo che sarà chiaro per tutti e quindi non ci spendo neanche una parola è il museo di Quebranlì a Parigi. Cioè l'idea che le facciate e le coperture possano essere occasioni per la vita vegetale. L'altra cosa che consideriamo pochissimo è, vi dico solo il titolo anche qui per lanciare l'idea, che la pelle di leopardo non può avere le macchie verdi e il giallo edificato. Deve essere il contrario. Le macchie devono essere edificate e il tessuto in interrotto giallo deve essere il verde. La pelliccia di leopardo funziona sulla crosta terrestre se il tessuto continuo e connettivo è quello libero verde. Se invece il tessuto continuo e connettivo è la città diffusa e ci sono le isole verdi, i parchi nazionali, regionali, urbani, non funziona. Non funziona per l'abbattimento delle polveri, non funziona per tutto il resto. E questa attenzione al disegno d'insieme scarsamente la si trova. Vi faccio solo un altro paragone che è quello con l'alveare. Nessun'ape è in grado di vivere in una celletta di cera. La pestano, non passa l'inverno il bozzolo, non funziona. Si vive solo sopra una certa massa critica e questo vale anche per gli alberi, vale anche per le persone. La massa critica va rispettata. Io posso fare il discorso del mezzettaro per dare l'idea della media a testa, ma devo cercare di salvaguardare gli ammassi di notevole estensione. Non posso dire che basta un ciuffo di dieci alberi a testa. Il ciuffo di dieci alberi a testa deve essere assemblato in una foresta, perché nel bosco succedono delle cose che nel ciuffo non succedono. L'ho detta molto male, ma insomma. L'aspetto su cui finirei, dopo aver fatto solo un cenno alle difese medievali che sono diventate in molte città d'Europa la green belt, la fascia verde, perché? Perché il verde è diventato la nostra difesa. Esattamente come il sistema difensivo era la difesa della città nei secoli passati, dalle invasioni, dalle guerre. Oggi la green belt è la difesa della città da se stessa, cioè dal non soccombere, dal non morire asfittica. Un cenno sulla cicatrizzazione. Tutte le parti verdi naturali si riparano da sole in difetto di manutenzione e comunque si assestano su un equilibrio sopportabile. Tutte le parti artificiali, a partire dalle centrali atomiche, se non c'è la manutenzione vanno in tilt, non funzionano. Un deposito della casaccia, fra il lago di Bracciano e Roma, che ha i fusti che si stanno arrugginendo, pieni di materiali radioattivi, ma siamo in crisi economica e quindi non ci sono i soldi per rinnovare i fusti all'Enea, e quindi anche l'Enea c'ha i tagli e sta fra la riserva idrica di Roma, lago di Bracciano e la città, è una cosa che in natura non succede, mentre nel mondo edificato succede. Se io ometto le manutenzioni, moltiplico di molte volte il danno ai costi dell'andare avanti. Ma finisco con un'idea che è quella della semina. Cioè che mentre se io mi appoggio al verde urbano o extraurbano, sto lavorando in una prospettiva perenne, è vero che il singolo albero morirà, che la singola erba morirà, la siepe non sarà più la stessa fra 50 anni, ma comunque faccio parte di un disegno che si può, diciamo, estendere in modo perenne. Se invece sto dedicandomi al costruito, anche a un viadotto, non necessariamente all'edilizia abitativa o commerciale, se sto progettando un viadotto, se non prevedo le manutenzioni, non solo non resterà pietra su pietra biblicamente, ma ci saranno problemi crescenti, dai costi crescenti, per via di quel viadotto non manutenuto, non tenuto in ordine. Se nessuno vernicia il ferro del nuovo ponte della musica, rischia di cominciare a costare molto più del previsto, perché un conto è verniciarlo ogni cinque anni, un conto è smontarlo mentre fra l'altro è diventata una struttura insicura. Se il legno non viene sostituito, non c'è neanche il sottoponte nel ponte della musica, c'è il tevere sotto, il problemino può diventare cospicuo. Dunque esistono dei costi di gestione, che mentre per la parte naturale dei giardini possono essere ignorati, io posso dire faccio un progetto da un milione di euro perché compro per il valore di un milione di euro alcune piante che metto a dimora. E ho fatto un progetto perenne, perché le piante non dureranno sempre, ma è un obiettivo in cui la vita si rigenera, qualcun altro raccoglierà i semi di quelle piante, li venderà, insomma è un sistema che si bilancia da solo. Se invece io sto facendo il ponte della musica, devo, e questo è un imperativo che gli ingegneri, gli architetti, eccetera, ci dobbiamo finalmente assegnare, devo prevedere nei costi del mio progetto non solo il costo di realizzazione, progettazione e realizzazione fino al collaudo, devo prevedere, come lo si faceva nel Medioevo, i costi di gestione. Se io faccio l'ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, nei secoli tardi del Medioevo, gli do le case e i campi perché queste persone possano curare i malati e rifare il tetto dell'ospedale ogni tot anni. Cioè ha non solo il necessario per essere edificato, ma il necessario per funzionare, per continuare a funzionare. Se non faccio questo, sto facendo operazioni dissennate, sto costruendo armi che vanno a detrimento della città. Allora occorrerebbe arrivare una buona volta al punto in cui noi tecnici proponiamo dei progetti in cui una quota, che ormai è arrivata sopra il 60%, va via, e certe volte sfiora il 90%, fate i conti se non ci credete, va via per cose indipendenti dal nostro progetto. 22 dell'IVA, 26,50, le utili imprese e spese generali, le varie tasse ulteriori, le casse obbligatorie, le cose, le spese di progettazione obbligatoria, le spese per la sicurezza, via via via, interesse composto sono al 60%. E quindi se io ho 100.000 euro, 40.000 euro servono a fare quel che ho pensato. Ma in questi 40.000, che già è mortificante vedere quanto siano tagliati, ci devo mettere che una quota preponderante è quella di funzionamento e una quota marginale è quella di attuazione della mia idea. Se arriveremo ad avere dei progettisti che hanno la modestia, che indicò già il Camillo Boito al primo congresso ingegnere e architetti italiani, se non sbaglio nel 1884, di dire fermarsi a tempo, contentarsi del meno possibile. Cioè se io vendo 100.000 euro, progetto, interventi per 8.000, sono sulla buona strada perché sto destinando gli altri 32.000, perché il resto sono oneri esterni, a fare qualcosa che serva a mantenere quegli 8.000 in buono stato. Grazie.